Ha perso, perché è colpa di Favento. E' vero, è vero. Quindi darei un po' di giura. Va bene, va bene, un pareggio, un pareggio, perché diciamo Paolo Antonio in questo caso, secondo la regia, è stato invalidante. Invalidante. È stato invalidante. Va bene. Ma lui lo era sempre. Lei accetta di buon grado questo commento? Lo sto accettando, lo sto accettando. No, no. Voglio far prendere i golli.